Notizia davvero inquietante. I media statali della Corea del Nord hanno rilasciato un breve dispaccio affermando che è in arrivo una comunicazione importante. Il dispaccio iniziale è stato inviato alle ore 7 e 28. Al momento non c'è ancora niente, ma questa comunicazione è assolutamente insolita. Di cosa si potrebbe trattare non è difficile da capire. Certamente comunicazioni di natura bellica, come ad esempio il reclutamento militare dei cittadini. Il che significherebbe che la Corea del Nord ha intenzione di attaccare la Corea del Sud. Insomma stanno accerchiando gli Stati Uniti di America, che non possono certo reggere su tutti i fronti aperti. Specie dopo che gli USA, come tutto l'Occidente, ha regalato gran parte delle sue armi convenzionali all'Ucraina. Dal Kosovo all'Ucraina, dalla Palestina a Taiwan, dall'Africa centrale ai problemi interni relativi al presidente fantasma Joe Biden. Fino appunto alla Corea del Sud. Insomma, grazie alle armi che anche l'Italia ha allegramente inviato all'Ucraina, l'escalation finale si è irreversibilmente avviata, tutti i nodi stanno venendo al pettine, ed è difficile a questo punto pensare che il tutto si possa pacificare e ritornare come era prima. Attendiamo dunque questo importante comunicato del governo nordcoreano alla popolazione. E ricordiamo che un paio di mesi fa le Forze Armate Italiane hanno rilasciato un comunicato ufficiale, condicente che se venissimo attaccati, data la colossale carenza di armi e munizioni regalate in gran parte alla Ucraina, potremmo resistere non più di 48 ore. Ma se ciò accadrà, certamente il nostro primo ministro Giorgia Meloni scenderà personalmente sul campo di battaglia, come quel presidente americano che in quel film sconfigge da solo gli alieni. E Giorgia Meloni sconfiggerà da sola il nemico. Possiamo dunque dormire sonni tranquilli.